Sicuramente una lotta per salvaguardare la propria identità, per salvaguardare anche sostenere l'autanticità del proprio ruolo, cose che di solito più caratterizzano la vita di un giovane attore o perché magari con l'età la cosa un po' diminuisce. Poi molta forza d'animo sicuramente ci vuole e molta disciplina. Non so se userei proprio il termine guerra ma sicuramente autodisciplina e sapere affrontare la paura perché questa è una costante, la paura è una costante nella nostra caratteristica.